La parola oggi parla della grande Chiesa che si diffondeva per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria, ma parla anche di persone concrete, parla di Enea, di Tabita, perché la Chiesa si diffonde tramite incontri e relazioni con persone vere e concrete e sono tutte persone che in fondo non fanno nient'altro. L'esperienza di cui Pietro è testimone nel Vangelo di oggi in cui a un certo punto Gesù dice, volete andarvene anche voi? E lui risponde, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio. In fondo, coloro che seguono Gesù Cristo fanno esperienza che solo Lui dà una parola di vita piena e non abbiamo a domandare se non soltanto fondare la nostra vita su di Lui. Buona mission.